Il nostro interesse nel promuovere la protesta silenziosa è stato unicamente quello di dar voce a frutti vendoli grossisti per veder risolta la problematica che vivono sulla loro pelle, quella dell'aumento del prezzo dei ticket giornalieri d'ingresso nella struttura commerciale di Via Barletta. E Claudio Sinisi, delegato Confcommercio di Andrea, a rispedire al mittente le accuse sferrate da Savino Montaruli di un'impresa abat che nei giorni scorsi ha parlato di una presunta chiusura pilotata del mercato ortofrutticolo pensata per favorire gli interessi dei privati. E a scendere in campo è stato Sinisi che, contattato telefonicamente, ha parlato anche a nome dei rappresentanti di Fida, Confcommercio e Confesercenti. Parole pesanti, accuse, velate, rivolte non si sa bene a chi ha commentato Claudio Sinisi che si è voluto soffermare sull'importanza della protesta silenziosa. Una manifestazione di dissenso che si è protratta per tre giorni con i fruttivendoli che hanno deciso di disertare e di non presentarsi al mercato ortofrutticolo a causa del rincaro delle tariffe giornaliere d'ingresso deciso dall'amministrazione Giorgino. Intanto, polemiche a parte, l'auspicio annunciato dal delegato di Confcommercio di Andrea è che l'iniziativa di protesta non finisca nel dimenticatoio. Per questo è stata già inviata una comunicazione al commissario prefettizio Gaetano Tufariello con la richiesta di un incontro affinché possa ascoltare le ragioni e le preoccupazioni dei fruttivendoli con la speranza della presa in esame di una modifica dei prezzi di ticket d'ingresso il cui aumento è stato definito dagli operatori del settore come ingiustificato.